Sono 25 anni di matrimonio, ma ci amiamo come se fosse il primo giorno. È da un anno che io mi vedo con un'altra persona. Chi è questa persona? Silvana! Tua madre ha una relazione con la mia commessa, è una cosa normale! Le vie dell'amore sono infinite per Carlo Verdone, che nella sua nuova commedia, Benedetta Follia, in uscita nelle sale l'11 gennaio, mette a confronto nuovamente le varie sfaccettature dell'universo femminile. Il film prodotto da Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis è stato presentato a Napoli alla presenza degli attori e del regista Carlo Verdone. Allora Carlo, ancora una volta il ruolo femminile protagonista nei tuoi film ti ha aiutato nella vita a confrontarti con le donne, nella vita personale? La maggior parte delle mie amiche sono tutte donne, quindi il 70% sono donne. Probabilmente anche questo mi ha aiutato a conoscere meglio il pianeta femminile, a raccontarlo meglio. E poi c'è un dato di fatto che tutti i film dove io ho avuto delle partner femminili sono forse i film che mi sono venuti meglio in qualche modo, o perlomeno dove la performance mia e dell'attrice in questione è stata sicuramente superiore. Pensiamo a Maledetto il giorno del tuo incontrato, pensiamo all'amore eterno finché dura, pensiamo ai film con la Gerini, Viaggi di Nozze, Grande e Grosse e Verdone, Iris Blonde. Magda. Eh beh, Magda, Magda Tumadori. Quindi sì, la donna è l'interlocutore ideale per me, perché è quella che riesce a mettermi più in difficoltà, quindi vado facilmente all'angolo e prendo cazzotti in tutto il... Cioè sono... Subisci il fascino femminile. Subisco molto e chiaramente faccio più ridere e ci sono più situazioni... Più situazioni di contrasto ci sono, meglio è. Ecco, poi il contrasto poi si risolve sempre poi in qualche altra cosa. Però sicuramente l'universo femminile mi è più congeniale, per questo ho voluto fare questo film, Benedetta Follia, proprio circondato da un pianeta totalmente femminile. Accanto a Verdone la bellissima Elenia Pastorelli, che per la seconda volta interpreta un ruolo da protagonista. Lavorare con Carlo è stata comunque un'esperienza umana grandissima, dove ho imparato tante cose. Carlo è una persona molto umile e mi ha messo molto a mio agio sul set e quindi anche io sono stata più libera di esprimermi. Ha avuto comunque con me sempre un atteggiamento positivo, d'apertura e quindi insieme spero e credo insomma abbiamo trovato una sintonia. Tra lavorare come regista e attore è sempre più complicato in un film? Beh, è complicato perché non facendo più i personaggi, chiaramente per far ridere devi far ridere in maniera più raffinata, con i tempi di recitazione, appoggiandoti a certi snodi della storia. Sì, è più complicato, ma è complicato anche perché il periodo ti offre un'umanità che è quasi tutto uguale. Quindi non c'era più quelle differenze che c'erano negli anni 90, quindi potevo fare i miei personaggi. Oggi si è molto livellato tutti, i problemi sono molto molto simili a tutti, o perlomeno. Però la bravura del regista e anche quella di Carlo Verdone è anche quella di cercare di individuare quel dettaglio e di ingrandirlo, che però quel dettaglio è tipico di quel momento che sta vivendo la società. Quindi è un tic, è un difetto, è una fragilità. Parlando del film, come si attualizza Benedetta Follia? All'inizio sembrerebbe emergere un mondo dei mati, perché quando vado nell'applicazione a cercare che lei mi mette nel telefono, e vado a questi appuntamenti, incontro solo folli. Adesso, attualmente, quindi siamo in un mondo di folli? No, 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 io ho due amici che si sono incontrati miracolosamente in un sito, uno addirittura ha fatto due figli, ancora con la regola e sono felici. Gli altri pure vanno d'accordo, quindi l'eccezione conferma la regola. Non siamo in un mondo di folli? No, non siamo in un mondo di folli, è un mondo un po' di solitudine, per quello si va, hai capito, poi su quello, perché forse siamo un pochino troppo soli con un computer, con uno smartphone. Dedichiamo gran parte della nostra vita a questo e non più alle relazioni umane. E poi te le vai a accettare sempre a livello digitale. Insomma, però la connotazione è questa, insomma, del film. È un mondo un po' di solitudine dove però avvengono tante cose, soprattutto è un film sull'amore questo qua, un film divertente, molto positivo, con un bel messaggio finale che dovrebbe, secondo me, il pubblico lo dovrebbe gradire molto, ecco. Faccio a Eleni all'ultima domanda, che cosa ti aspetti dal pubblico? Ma io spero che il pubblico, insomma, veda un film sincero, onesto e fatto con il cuore. Carlo, oltre a far molto ridere, secondo me ha anche questa vena poetica, che comunque è sempre un valore aggiunto a un film comico rispetto a tanti altri. E quindi spero che il pubblico si immedesimi un po' nelle nostre vicissitudini e che, insomma, si apprezzi la sincerità di questo film. 14 anni di collaborazione e sei film portati sul grande schermo, Aurelio e Luigi De Laurentiis sono soddisfatti della collaborazione con il grande Verdone. Ogni film è diverso, che ci sia Carlo Verdone o non ci sia Carlo Verdone. Quindi è sempre una sfida, perché la sfida è con il pubblico. È come se uno gettasse, costruisse un ponte dove arrivare al pubblico. Quindi io ho sempre sostenuto con tutti quanti gli autori che hanno collaborato con noi in questi ultimi 40 anni che, diciamo, noi abbiamo come primo committente il pubblico. Con Carlo Verdone abbiamo fatto dei film straordinari. Forse il film di maggiore successo che lui ha fatto è stato il mio miglior nemico, dove c'era il giovane Muccino. Anche qui adesso abbiamo una giovanissima attrice, che è stata la protagonista di Lo chiamavano Gigrobò, che è Ilenia Pastorelli, che è straordinaria. non è la sua amante, ma è una donna che entra nella sua vita a gamba tesa e che lo travolge. Lo travolge perché Carlo è in un momento di grandi dubbi, in un momento in cui è rimasto solo, la moglie l'ha lasciato. E questa ragazza lo inizia al mondo delle app. E quindi userà Tinder, non userà Tinder, su quale app si posizionerà per avere dei nuovi incontri che lo riproiettino con grande forza nel mondo e nel suo futuro. e passa attraverso delle avventure esilaranti, comicissime, divertentissime, di donne improbabili e quindi proprio perché sono improbabili sono divertenti, fino a quando poi troverà finalmente la sua anima gemella con la quale riniziare un nuovo corso. Anche lei come Carlo Verdone subisce il fascino femminile nei film professionalmente? Ma io ho sempre trattato il cinema in maniera ultra professionale, quindi non ho mai, semmai ho dovuto far lavorare qualcuna perché qualcuno mi chiedeva di fargli la cortesia, di fargliela lavorare. Ma io non è che amo molto, io amo molto la professionalità. E allora voglio dire, le attrici, quando sono delle vere attrici che corrispondono a quel ruolo e a quelle caratteristiche è fantastico lavorare perché uno non deve dire, ma guarda che ho preso, ma questa non è capace, è stata solo una raccomandata o una nostra raccomandata. No, io credo che nel cinema i raccomandati devono essere bravi per trovare la loro occasione. E di solito la mia esperienza dice che i raccomandati non sono bravi, non hanno questa lunga strada. Ma è sempre una nuova sfida presentare film? Da sempre. Diciamo che il nostro lavoro numero uno, quello di presentare i film, è complesso quanto l'ideazione di un film dove quest'anno, per esempio con il film di Carlo Verdone, noi siamo partiti da due nuovi sceneggiatori, Guaglianone e Menotti, che venivano dal successo dell'ora legale di, lo chiamavano Girobo, che hanno scritto insieme a Carlo Verdone questo nuovo film, Benedetta Follia, che è una commedia attuale, divertente, romantica, ha veramente un po' tutti quegli ingredienti che servono a convincere il pubblico. Il lancio di questo film l'abbiamo seguito sempre in prima persona, abbiamo lavorato a un trailer molto divertente che piace in sala, e quindi ci auguriamo dall'11 gennaio che vengano in molti. C'è collaborazione nella realizzazione del film con Carlo Verdone, con il regista? Beh, c'è una grandissima collaborazione dal primo giorno in cui ci si siede e si comincia a pensare al prossimo film. Già adesso stiamo pensando al nuovo film di Carlo Verdone che uscirà tra un anno e mezzo. E quindi c'è una grande collaborazione che parte dalla scrittura, parte poi anche dalla selezione di un nuovo musicista, un nuovo montatore, come questo film ha avuto. Durante le riprese, quando guardiamo i giornalieri, molto spesso ci confrontiamo su delle scene che magari ci sono piaciute meno, le rigiriamo. Insomma, quindi c'è una grandissima collaborazione tra produttori a 360 gradi come noi e un artista come Carlo Verdone. Un cast d'eccezione nel film Benedetta Follia con una brillante Lucrezia Lante della Rovere, moglie di Guglielmo, Carlo Verdone, e Maria Pia Calzone nelle vesti di Ornella, donna conosciuta su un'app di incontri. Ma sono tante altre le donne folli con cui si relaziona Guglielmo, donne disposte a tutto pur di trovare l'anima gemella. Benvenuto! Che sei, Gianfranco? Chi? Ho sbagliato civico, scusa.